musica 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 comunque era sempre a 113 ah, così bassa perchè ha diminuito le casse, le battute ah, proprio lo disco che finisce così cosa stai rollando? si che domande che cazzone che sei musica un cappuccino ancora di kebab si sente? ancora? un cappuccino senza senso non ha senso ma si sente un ruote al kebab? potrei filtrarlo no, ma meglio di no ciao Silvia Merighi saluta the bag musica 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 no no primo piano dei denti e non costa mai musica 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 musica